Emanuele Biradelli, capitano azzurro, che paura ti porti a Rio che ne hai giocate già due di Olimpiadi? Ma paura ovviamente è un vocabolo che non mi piace tanto, sicuramente ci sono emozioni, quelle belle e quelle che mettono un po' più di tensione, però non c'è paura, c'è voglia di far bene, ovviamente si rispettano tutte le altre squadre, perché oltretutto giocheremo con i super team di tutto il mondo, però siamo anche consapevoli che non dobbiamo avere paura di nessuno perché possiamo batterli tutti. Al contrario c'è un punto di forza? Una qualcosa che ti dà certezza? Io penso di sì, io penso che dobbiamo puntare sui nostri punti di forza, come dici te, e noi sappiamo quali sono. Sono un grande attacco perché secondo me in quel fondamentale abbiamo la possibilità di fare sempre bene, anche sulle palle più scontate, quando gli altri ci murano. Abbiamo dei ottimi battitori e quindi in ogni momento secondo me abbiamo la possibilità di girare un set o di scavare un solco nel punteggio e quindi portare a casa quel set e eventualmente la partita. Quindi partiamo fiduciosi, ambiziosi, con l'umiltà ovviamente che ci deve accompagnare perché le cose difficili non arrivano da sole, si devono conquistare con tanto sacrificio e stringendo i denti però con l'ambizione di poter far bene.